Per Siracusa-Catania Mistericole si affida per la gestione delle difese alla sorte. Infatti tra i convocati appaiono solo quattro difensori di ruolo. Non convocati Bergamelli e Giorgiovic alle prese sembra con problemi di affaticamento. La formazione iniziale del Catania è quindi Pisseri, Russo, Mbodi, Bastrini, Nava, Biagianti, Scoppa, Di Cerco, Russotto, Viscitella e Paolucci. Il modulo è 4-3-1-2 con Russo adattato in difesa e Russotto centrale dietro le punte. Dopo i primi 15 minuti di una buona pressione del Siracusa il Catania comincia a giocare a buon ritmo. Dal 22esimo al 29esimo minuto l'arbitro Pellitteri di Palermo prende tre abbaghi pazzeschi. Due regoli solari per il Catania non fischiati, uno su Paolucci e un fallo di mano che toglie la palla dalla porta e un fallo d'ultimo uomo su Russotto. Al 31esimo Paolucci porta in vantaggio il Catania. Piscitella si infolla sulla fascia destra e poco fuori aria tenta di superare Santurro con una palombella. Il portiere arriva a deviare e Paolucci interviene di testa e inzaccherrete. Il primo tempo finisce con il Catania in vantaggio per 1-0. Buon possesso palla dei rossazzurri con Nava sopra le righe specialmente in fase propositiva e un ottimo Russotto. Nell'intervallo le due tifoserie entrano in contatto con lancio di pietre e vari oggetti tra i vari settori. Addirittura dei tifoseri 2-6 sono entrati nel terreno di gioco e occupano uno spicchio di campo. Questo provoca un ritardo nell'inizio del secondo tempo che infatti inizia con 16 minuti di ritardo e senza cambi tra le due formazioni. Il Catania gioca però un po' troppo a basso e questo favorisce la manovra retusea che si fa insistente e porta Baiocco vicino al gollo con un colpo di testa a porta sguarnita. Al 64esimo Piscitella un po' sulle gambe esce ed entra Di Grazia. Al 66esimo il pareggio del Siracusa che avviene su un rigore assegnato per farlo di mano di Bastrini e dentro l'area di rigore. Catania che sente troppo la fatica e non riesce a giocare come nel primo tempo. Rigoli se ne accorge all'ottantesimo toglie Di Cecco e mette dentro Barisic. All'ottantaquattresimo esce Paolucci ed entra Calille. Si passa al 4-3-3. All'ottantanunesimo Barisic cross in aria ma Calille di testa mette nelle mani di Santurro. Al novantesimo Piscite riesce a vuoto e Baiocco sfiora il gollo per il Siracusa. Finisce 1-1 con un Catania che non è riuscito a vincere una partita facile facile. Complice un secondo tempo in cui i rossazzucri non hanno fatto per nulla bene soffrendo oltremodo il palleggiare Tuseo. Migliori in campo per il Catania e il russotto per il Siracusa Baiocco. Il peggiore ha arbitro Pilliteri della sezione di Palermo la cui direzione di gara lascia quando perplessi. Prossimo avversario l'Acragas in casa domenica 21 dove si dovrà vincere per passare il turno.